Prima finale del campionato italiano 24MX Rider Expert il 19 e 20 giugno allo ZMX Park di Chieve in provincia di Cremona. Cominciamo con le manche della Expert MX1. I migliori al via sono D'Angelo, Ciuffetelli e Donà che girano davanti alla prima curva. Riccardo Ciuffetelli comanda la gara nelle fasi iniziali con Luca Arimatea che però piano piano si avvicina. E dopo qualche giro Ciuffetelli ha un problema e perde diverse posizioni lasciando strada ad Arimatea. Il piemontese amministra il suo vantaggio su Alex Vota che risale al secondo posto mentre per la terza piazza Manuel Rossi ha la meglio su Ciuffetelli. Al traguardo quindi è primo Arimatea. Via della seconda manche con Stefano D'Angelo di nuovo davanti seguito da Rosso e Bazzucchi. Il primo giro si chiude con D'Angelo a fare l'andatura tallonato da Bazzucchi, Rosso e Arimatea. Fino a circa metà gara il quartetto è abbastanza compatto con Bazzucchi che cerca di mettere pressione a D'Angelo. Ma l'ombro della Yamaha nella fase finale della gara rallenta il ritmo e lascia strada ad Arimatea che invece continua a spingere. Queste sono le fasi proprio del sorpasso di Arimatea ai danni di Bazzucchi che quindi vale la seconda posizione. Il Piemottese però come detto continua a spingere e D'Angelo tiene duro fino all'inizio dell'ultimo giro. Poi Arimatea trova un varco e si infila. I due rivali arrivano sul salto finale in volata e a spuntarla per pochi centimetri è Arimatea che quindi si aggiudica l'assoluta con una doppietta. Sul podio con lui ci sono D'Angelo e Vota con Ciuffetelli quarto e Bazzucchi quinto. Sempre expert ma stavolta MX2 prima manche con scatto vincente di Damian che precede Gasparini e Diego Bianchi. Quest'ultimo si fa largo in fretta e prende il comando già nel corso del primo giro. Il marchigiano della Yamaha prova a scappare approfittando della bagara alle sue spalle che vede coinvolti Lorenzoni, Vanzi, Pelacchi, Damian e Gasparini con questi ultimi che termineranno però più staccati. Simone Lorenzoni si prende la seconda posizione grazie a un ritmo regolare precedendo il numero 41, Federico Pelacchi. Gara nervosa invece per Gabriele Vanzi che recupera e perde posizioni per tutto l'arco della manche fino a concludere quarto. Successo indisturbato al traguardo per Diego Bianchi. Seconda manche ed è un grande spunto di Pelacchi che precede nettamente Bianchi e Vanzi. Ma Vanzi forza il ritmo e con la sua piccola 125 due tempi passa in testa seguito da Bianchi che anche lui nel corso del primo giro ha scavalcato Pelacchi. Vanzi tenta la fuga approfittando della bagarre tra Bianchi e Pelacchi ma la Yamaha numero 6 ritorna sotto. I due mattatori a questo punto combattono una guerra di nervi che dura tutta la manche con Vanzi che riesce però sempre a tenere la posizione senza farsi sorprendere da Bianchi. Così sul traguardo arriva primo Vanzi se con Bianchi in seconda posizione. Bianchi che comunque si consola con il successo di giornata con Vanzi secondo, Lorenzoni terzo, Pelacchi quarto e Zanchetta quinto. Passiamo alla Rider MX1 ed è il mulisano Claudio Pignoli a partire davanti a tutti in gara 1 con check-in, bellecati e tre soldi al suo inseguimento. Ma ben presto al comando si porta Edgardo Borella lo specialista della supermoto che dimostra di sapersela cavare molto bene anche nel motocross. Borella allunga e rimane da solo davanti a tutti. Fabio tre soldi mantiene la seconda posizione anche se Pignoli in rimonta dopo una caduta nelle fasi iniziali lo avvicina pericolosamente negli ultimi giri. La situazione comunque almeno per quanto riguarda le posizioni di vertice non cambia più e Borella porta a casa la vittoria con ampio margine su tre soldi e Pignoli. Gara 2 ed è ancora Pignoli ad avere lo spunto migliore dall'esterno del cancelletto poi ci sono Bellecati e Massini. Borella invece intorno alla sesta posizione così Pignoli inizialmente in testa con un buon margine va in fuga mentre Borella è costretto ad effettuare alcuni sorpassi per portarsi al suo inseguimento. Poi però il molisano ha qualche problema ed è costretto a rallentare lasciando gioco facile a Borella. Lo specialista dello sliding passa in testa e se ne va di nuovo mentre Pignoli gestisce la situazione e la seconda posizione. Terzo invece c'è Cristian Bellecati bandiera a scacchi per la vittoria di Borella che sul podio precede Pignoli, tre soldi, Bellecati e Massini. La Ryder MX2 nella prima mancia il migliore al via è Pecci con Piovani e Masoner in seconda e terza posizione. Al termine del primo giro comanda Piovani ma Alex Masoner con la sua Suzuki lo tiene sotto pressione e ben presto passerà all'attacco conquistando la vetta. Masoner a quel punto non ha più problemi mentre la seconda posizione cambia padrone diverse altre volte. Da Piovani passa a Ottoni e alla fine a Luigi Gerlini che sarà poi quello che riuscirà a portarla fino alla bandiera a scacchi. All'arrivo quindi la vittoria è di Alex Masoner, poi ci sono Gerlini e Luca Ottoni. Si abbassa il cancello di gara 2 e Michael Azzarello indovina lo spunto migliore con Ottoni e Fania alle sue spalle. Più indietro invece c'è una caduta di gruppo che coinvolge diversi piloti senza nessuna conseguenza però se non la perdita di tempo. Azzarello che ha chiuso sesto in gara 1 scappa via e lascia la bagarre alle sue spalle con protagonisti Piovani, Ottoni e un rimontante Masoner. Azzarello guida in scioltezza in una situazione ideale, nessuno infatti lo disturba mentre dietro di lui infuria la battaglia tra Piovani e Masoner. Alla fine il lombardo della Suzuki riuscirà a prevalere e mentre Azzarello va a vincere lui si prende la seconda posizione che gli vale il successo di giornata. Masoner quindi sul gradino più alto del podio davanti ad Azzarello e Gerlini con Piovani quarto e Ottoni quinto. Ora però la lotta per i titoli Rider Expert 24 MX si prepara all'ultimo atto l'11 e 12 settembre a Esanatoia. Azzarello guida in scioltezza in scioltezza in scioltezza in scioltezza.